I bambini delle classi quarte della primaria della direzione didattica di Guardia Grele, rispettivamente dei plessi di Comino, Rione Cappuccini, Via Cavalieri, alle prese con le aiuole didattiche di Floranet negli spazi antistanti gli edifici scolastici. Floranet è un progetto per la salvaguardia e la valorizzazione di sette specie vegetali rare ed in pericolo di estinzione presenti nei parchi naturali dell'Appenino Abruzzese, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che coinvolge tre aree protette del nostro appennino, il Parco Nazionale della Maiella, che ne è capofila, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quello regionale del Sirente Velino con il supporto dell'Università di Camerino e di Legambiente. La realizzazione delle aiuole rappresenta la parte centrale di un programma educativo triennale articolato in più fasi destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie delle tre aree protette per favorire la conoscenza delle specie Floranet. La scuola di Guardia Grele è una delle dodici che hanno aderito al percorso didattico promosso e attuato nell'ambito del progetto nel Parco Nazionale della Maiella, che vede complessivamente coinvolti 270 alunni. Gli alunni, seguiti dai tecnici del parco e dagli operatori di Legambiente, hanno avuto modo di operare direttamente nelle attività di messa a dimora di numerose specie vegetali, tra cui, in particolare, due delle specie Target Floranet, l'Iris marsica e la stragalo aquilano. Cimentandosi nella realizzazione delle aiuole, hanno eseguito praticamente e con interesse e curiosità le attività di pacciamatura e collocazione dei cartellini identificativi su ogni specie selvatica piantumata. A conclusione dei lavori, le aiuole sono state inaugurate alla presenza della dirigente scolastica, Daniela Marsibilio, del sindaco di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo, dal coordinatore tecnico del progetto, Life Floranet, Luciano Di Martino.